L'imperativo è lavorare al massimo sulla prevenzione per far oziare il più possibile gli uomini della sala operativa. Ironizza un po', ma l'obiettivo del neoresponsabile della protezione civile in Puglia, Fabiano Amati, insediatosi oggi, è chiaro. La nomina di Amati è arrivata con la composizione della nuova giunta regionale, doppia delega per lui già assessore alle opere pubbliche. È iniziata la fase organizzativa del lavoro che prevede il rafforzamento delle attività e in particolare il potenziamento della collaborazione degli enti territoriali, delle associazioni di volontariato, dell'autorità di Bacino e dell'ufficio protezione suolo. Esperti che saranno in grado di rendere ancora più efficiente e tempestivo il lavoro della protezione civile pugliese che mai, come negli ultimi anni, ha dimostrato di saper fronteggiare emergenze gravi come il soccorso ai terremotati d'Abruzzo e il sostegno alle popolazioni di Haiti con il trasferimento di centinaia di brandine e tende. L'obiettivo è tenere in ozio le strutture di emergenza. Ci sono una serie di attività preventive che ovviamente non fanno notizie ma sono esattamente le attività che impediscono la notizia.